Anche il sole si è alzato, andiamo da Paolino Ciao Maria! Ciao Roberta, pronta la partenza? Prontissima! Dai, sali! Buongiorno! 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 Pronta? Prontissima! Ciao! Ciao! Stiamo arrivando! E poi sono arrivate! Sono arrivate! Directly from... Cosa facciamo? Così? Se vuole, io sono sempre pronto a essere spazzoppiato, ve lo dico! Allora quando sei alto, non vanno in alto! 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 No vanno in alto! Vuola, i contати... Non vanno in alto! Non vanno in alto! Non vanno in alto! Non vanno in alto... Un m Un saluto da Maria di MDA Immobiliare. Grazie Paolo.